La divina misericordia di questa novena è molto importante che nelle case, nelle famiglie si dice questa coroncina ogni giorno. Questo è una forte testimonianza, soprattutto quando non abbiamo bisogno solo di qualcosa che vogliamo ma quando anche stiamo bene per dire Gesù misericordioso grazie che tu sei con noi, che siamo ancora in vita. Così tanto è importante di questo. Diciamo questo settimo giorno della novena. La novena è importante proprio la coroncina di misericordia nell'anno di misericordia. E poi in questo anno, guardate come caso, succede anno di misericordia ma uguale come se fosse in quell'anno di undici anni fa, 2005, quando grande apostolo della misericordia, Giovanni Paolo II stava morendo. Erano le stesse giornate. Lui muore nella vigilia della festa di misericordia, 2 aprile 2005 e giorno dopo c'è la festa di misericordia. Questo anno lo stesso, guardate succede. 2 aprile è sabato, vigilia della festa e domenica la misericordia. Allora diciamo, preghiamo oggi per Anna, preghiamo per tante persone malate, sofferenti quante persone che hanno bisogno dell'aiuto e per le persone che sono state abbandonate. Poco tempo fa avevo un incontro con una signora che dice, dopo tre anni, mio marito mi ha abbandonato. Sono rimasta con piccolo figlio. Quanti abbandoni, no? Quante, diciamo, unioni spezzati nelle famiglie. Preghiamo per le famiglie. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Danci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci dura in tentazione, ma liberaci dal male. Percatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Credo in un solo Dio, Padre e potente, creatore del cielo della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Dio, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo e mortale, abbi misericordia di noi e del mondo intero. O sangue e l'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. La novena, parole di nostro Signore Gesù. Oggi portatevi le anime che onorano e glorificano particolarmente la mia misericordia. Queste anime hanno partecipato di più alla mia passione e più profondamente penetrato nel mio spirito. Esse sono la copia viva del mio cuore misericordioso. Nella vita futura queste anime scintilleranno con uno splendore particolare. Veneranno la divina misericordia e diffondono la sua devozione. Misericordiosissimo Gesù, in cui cuore e amore ricevi nella timora del tuo cuore misericordioso, le anime che onorano e diffondono in modo speciale la grandezza della tua misericordia, dotate della potenza stessa di Dio, sempre fiduciose, nella tua imperscrutabile misericordia. E corrispondi la vita e l'ora della morte, chiunque adorerà i propagerà il mistero della tua misericordia. Così sia. Amen. Eterno riposo. Donorolo Signore, splendida ed essi la luce perpetua. E posto in pace. Amen. Eterno riposo. Donorolo Signore, pace. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedico a Dio di potente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ora vi regalo alla vostra famiglia questa immagine molto particolare per voi che ve la portate proprio. Leggete la storia dietro. Anche tu, non ce l'avevi vero? Anche tu, nella tua famiglia, portila. E anche tu, nella tua famiglia. Portate, dice dietro scritto, quello che vi compriamo. Grazie. Grazie.